Nuova puntata di Informa, siamo qui chiaramente al Centro Estetico Exit Center di Bolzano, Centro Estetico e Wellness e vi presento subito la nostra ospite oggi che è la dottoressa Elisa De Lorenzi, beauty manager di Farmoga. Farmoga cos'è? Qualcuno già lo conosce, è un'azienda che si occupa di bellezza e soprattutto di prodotti estetici. Buongiorno Elisa, buongiorno Alberto e buongiorno a tutti gli amici di Informa. E cosa ci regali oggi? Oggi vi regalo dei suggerimenti preziosissimi di tutti i trattamenti viso che si possono fare ad exit, un trattamento più bello dell'altro, più importante dell'altro, non solo per la bellezza del viso, ma anche per la salute del viso e della pelle. Tutti i prodotti che utilizza Exit sono prodotti particolarmente preziosi, particolarmente importanti, sicuri e efficaci per il viso, per la pelle delle nostre amiche e dei nostri amici di Informa. Exit ha dato sempre tanto spazio al prodotto che sia sicuro, che sia efficace, che sia di forte risultato e i trattamenti che Farmoga permette di fare al viso sono uno più interessante dell'altro. Il primo che consiglio a tutte le amiche di Informa e di Exit degli amici si chiama 100% viso, un trattamento che ci permette di lavorare sull'invecchiamento precoce attraverso il mondo degli antiossidanti, piacevolissimo nelle sensazioni, stupendo nell'effetto, è in grado di fare, rendere i visi come visi di bambole di porcellana, quindi luminosi, distesi, puliti da quel grigiore che a volte caratterizza molti visi. Un trattamento se vogliamo anche veloce, che non ci prende tantissimo tempo, ma dà alla pelle quel giusto risveglio, quella giusta luce che la tua amica leggermente è gelosa, ti chiede che cosa ti sei fatta al viso. L'altro bellissimo trattamento è Principi, è già un trattamento se vogliamo un po' più strutturato rispetto al 100% perché è specializzato nel purificare, nell'equilibrare quelle pelli che a volte impazziscono un po' con il freddo si sensibilizzano e questo è un vero e proprio trattamento riequilibrante, in grado di risvegliare proprio il tessuto dermico e quindi di, come posso dire, proprio creare quel giusto risveglio alla pelle e ci mette proprio in ordine, ci prepara ad affrontare il freddo se vogliamo. Terzo bellissimo feeling time, detto bisturi cosmetico, un trattamento in grado di ridare al viso l'espressività che avevamo un po' di tempo fa, un vero e proprio bisturi cosmetico, l'unico trattamento che con le mani dell'estetista riesco a ridare tono e consistenza al viso, un trattamento magnifico che dà la risposta giusta alle esigenze della cliente che lotta contro il tempo. Pensate che ce n'è un quarto? Sì, però voglio dirti è un trattamento brevettato Farmogal, c'è la Exit che lavora con Farmogal, non ce l'ha nessun altro istituto se non ha l'azienda Farmogal. Quarto, un trattamento specifico per pelli sensibili e cuperosiche, quindi lavora proprio dalla sensibilità a quella che si definisce acne rosacea, ciepirosa, trattamento importante in termini di bellezza ma in termini anche di tutela di una pelle che tendenzialmente soffre perché ha un riversamento sanguigno e di conseguenza va lavorata e protetta in maniera diversa, in maniera particolarmente sicura ed efficace. Un trattamento illuminante schiarente e anche anti-età per una pelle cuperosica. Ultimo trattamento Octavius. Octavius è un lifting che prevede l'uso di un'apparecchiatura che lavora ancora e lo sottolineo per le amiche e gli amici che ci seguono in sicurezza, quindi non ha nessun tipo di rischio ma ci permette di liftare in maniera molto forte viso e decolletà. Quindi non mi resta che dire, soprattutto nelle prossimità delle feste natalizie, pensate a quello che ha detto la dottoressa Elisa De Lorenzi. Abbiamo dei trattamenti qui all'Exit che riguarda il mondo viso, sia per donne che per uomo, il quale vi può ridonare quello che è proprio la bellezza, perché parliamo di bellezza alla fine, che poi non è intesa come bellezza, io più bello di te o tu più bella di me, ma quello che è la pelle, quello che è la salute del nostro viso. Alla prossima puntata e ci vediamo, arrivederci. Musica Grazie a tutti.